Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' un po' di sottotitoli. 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 Guarda come broccano noi, bro, con l'Instagram. Che grandi, cazzo! You want this? Con il tagliere. You are 2003? Holy shit! You are 2003! You are 2003! No! No, you are 2004. What the hell are you doing? So... It's a pleasure, sorry, bro. Gabriel. Thank you very much. Ok. Voilà! Aspetta, un po', un po' stretto. Ok. Dove mi metto così? Vieni, vieni, vieni. Arco diazzo, ma le moto fanno paura, bro. Posso tenermi se ho paura? Certo. Ok, vai. Arco diazzo, mi vede un po' scazzato, bro. E' un po' di soldi veri. Ma va, non esiste... Non sono dentista, non tu tecnico, amore. Non tu tecnico? Lavori in uno studio dentistico. Ovvio, amore. Ma chi è la tipa del samsara del samsara? Ma chi è la tipa del samsara del samsara? Che poi finisci come la tipa del samsara? Eeeh! Raga, qua siamo a Milano, non siamo al samsara. Qua sfigati non ce ne sono. No, il samsara... Come si chiama Ercole? Ercole! E' successo. Ercolandia. Niente di malizioso. Questa è la musica... Questa è tipo la playlist che c'è all'old fashion da otto mesi, che continuo ogni sera. Grazie, Cinovino! Nooo! Io facevo il pizzo... Ma sta giusto, ma sta giusto! Ma dai! Callu ce l'abbiamo? Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Porca troia! E poi che cazzo dici le parole che dicevo io sempre a tua mamma? Porca puttana! Almeno io le mantenevo! Ma con chi ti sta incazzando? No, non mi sto incazzando, è uno con cui ci vediamo! Buon mannale! Con 15 euro questi! Ma ci vada niente! Su sta roba ci vada niente! Non ci vada niente! Ragazzi! Ma! E tu fai questo per 15 euro! Ma aspetta! Perché io manco per 500! Mi facciamo vuoi! È il mio pallo! Ma stai cagando! Ti un pazzo ancora ragazzi! Di chi? Il flow! Ottima scelta! Alziamo l'asticella proprio! E ora? E ora? Inizia! Sì! Proccio! No! No! Cazzo! No! Prendo le distanze! Assolute! Prendo le distanze! Madonna! Da studontiche! Da tutto! No! 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 C'è un po' imbrogiato! Bella Kate! Grazie del sabone bestia! Cosa è sabone? Eh? Sabone che c'è! Non è la borra! La borra! La borra! La borra eh! La borra! Viva la borra! Sempre! Con la S! Con la S! Eccala! La sorra! La sorra! Sorata! La sorca si può dire? La sorca si a voglia! Viva la sorca! Porca puttana! algorithms- Sì, 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 sono il migliore in Italia In Twitch sono il migliore Hola chicas, questa noce las voi a llenar di crema caliente Hola chicas, questa noce las voi a llenar di crema caliente What is it? Ma che cazzo crede più all'astrologia ormai? Aspetta, come si gira il telefono? Aspetta, come si fa? E' qua Esatto Aspetta Non mezzo per ridere Sì, sì, sì Sì, a posto Se era maliziosa la mia ciotta l'ho tanto visto malata Che sono tutti i succhiacazzi Sono un po' giovane E' un cocktail No, è buono No, questo è una cosa che c'è bro 22,5 di ciotto Guarda quanto t'arriva adesso? 22,5 di maschi Sai cosa è di figo? Che all'ultimo, dopo l'ingogliato, senti un pizzichiolo a cuore Non ti dischiare Perché mi stanno dedicando almeno una cosa Ora sono da nulla Almeno Venga, siete col telefono Non ti stanno sottottando Non ti stanno sottottando Non ti stanno sottottando Non ti stanno sottottando Venga, se mi date un limone è la fine Vogliono sapere come si chiami Anna Chi stava sottottando E il pinguino Ha fatto Oh, qua non scappa la cucciola No, non scappare da me Non scappare Voglio solo toccare Di nuovo al Malti Di nuovo al Malti Come stai? Tutto postato Mi sono sentito più vicine Non inquadrare il culo Che fai? Ma che cazzo fai? Floranna ma no No mi chiamo Floranna Sono ubriaco vero Vai tranquillo, spero di esserlo anche io tra poco Ti offro qualcosa, vuoi? No, no, oddio Ti offro un cocktail, qualsiasi cosa vuoi Ma no, tranquillo, troppo gentile sei Non sono scherzando, bevi qualcosa te la pago io Non c'è problema Ma no, ma non voglio Ma veramente, mi ha fatto piacerissimo il gesto e ti ringrazio Mi fa veramente piacere, cioè ti ringrazio Non c'è bisogno Ti ringrazio però per il pensiero Te Spingo troppo forte Ficché il doppio suono fumo Loppi e chiudo gli occhi Io scivo, scavo, tombe, letra Scavo, invento, sgancio, bombe Il tipo vietta, la mindocina Siamo impara la gavetta, tirocina Ci ricopriamo a manetta tipo Cina Li mangiamo tipo M&M, Sam e James Siamo tipo Reye, che è Shiro, vuoi Shiro Mila No, io non finisco Sono questi dicono che non la voglia fanno come quella tipo Che non dice che la troia per si cogli i miei coglioni come terapione Perché dice sia, ma come per... Si ripieni, si ripieni Fai, vai Non li ho saputi quanti non ho saputi dare valorizzare E l'ho buttati Salutiamo che ha portato tutti Si dai, più o meno Fai un saluto a capropazzo Ragazzi, non studiate, non andate alla cattolica Non fate un cazzo nella vostra vita Venite a comprare il mio corso, Mattia Ruta Solo i 690 euro E potrete avere la vita dei vostri sogni Fidatevi di me, ragazzi Un po' di Amazon FBA Business online Solo 690 euro E la tua vita potrà cambiare Mi raccomando Se vuoi faremi bonifico, istantaneo, possibilmente Grazie Scusatemi Ma torno di là, torno Eh? Ragazzi, un 50% sul mio corso Ma scusa, perché non metti una mega cassa? Qua fuori, Stella, guarda cos'è che c'è Vedi? Il bar Ma che figata è? È tuo? Il bar? No, il bar non è mio Apri? Non posso aprire, perché c'è la serranda C'è la tipo, la persia, la roba Non si può, non si può Quindi se facciamo Just Dance ci sentono questi marchioni? Ma ci sentono anche adesso le tue